Grazie a tutti. La premura che voi aveste di custodire sempre intatto il mistico giglio della polità, per quella devozione tenerissima che aveste sempre alla Gran Vergine Maria, fatta in modo speciale glorificare tra tutti i vostri figli spirituali. Fate, o Padre Santo, di potervi imitare nelle vostre pratiche della fede e di essere sempre devoti nella Santissima Madre Nostra Maria, per ottenere le più rette benedizioni. Conservateci poi sempre alla vostra santa protezione, guidandoci a vivere in modo da piacere la Santissima Vergine Maria, e Gesù Cristo nostro Signore, per la salute e la gloria e la vita eterna. Così sia. Vale nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri vitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal pane. Amen Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen